Parliamo adesso con Luigi Sarsilli, presidente del Mozzanica L'Ora Press. Vittorie come queste scaldano il cuore. Sì, oggi è stata proprio una vittoria sofferta, una grande Roma, ma il Mozzanica alla fine l'ha spuntata. Questa è farina del nostro sacco. Noi stiamo giocando le partite una a una, una meglio dell'altra e stiamo macinando punti ogni partita che facciamo. Una vittoria che arriva, mi è sembrato, dal gruppo. Decisive sono state le ragazze che sono entrate dalla panchina e forse è stata questa proprio la differenza della Roma. Avere forze fresche dalla panchina che hanno dato in là nell'ultimo quarto d'ora la vittoria della squadra. Sì, sicuramente quei cambi lì hanno cambiato un po' il gioco, ma ripeto la Roma è una grande squadra perché ci ha fatto soffrire, soprattutto nel primo tempo, quella mezz'ora lì, non si fanno uscire dall'area, però alla fine l'abbiamo spuntata perché vedo che le ragazze sono molto unite e giocano proprio con la forza nelle gambe, proprio per macinare punti e va bene. Siamo contenti tutti perché con questo quarto posto che stiamo tenendo... Un grande risultato per i giorni. Un grandissimo risultato, adesso mercoledì ce la giochiamo con i Chieselli, vediamo, vediamo un po'. Comunque ripeto un grazie a tutte le ragazze e anche al mister perché questa qua è veramente una vittoria che conta, sono punti importanti questi.